Dopo partita Pomigliano-Venafro siamo con il direttore sportivo Agostino Romano. Allora Agostino è una vittoria importante vista anche i risultati delle altre squadre. Una vittoria che diciamo che noi ci prendiamo solo i tre punti da questa partita. Poi sono il primo che chiedo scuse ai tifosi qua oggi perché abbiamo fatto una prestazione da piangere proprio. E assolutamente non sono proprio d'accordo su questo tipo di atteggiamento. Domani ne riparliamo perché domani ci alleniamo, si cambia registro, ognuno si prende le sue responsabilità. Ma oggi adesso volevo un'altra risposta, non questa. Agostino, il campionato del Pomigliano nelle prossime due partite, Pianura e Nocerina. No, il campionato del Pomigliano noi abbiamo avuto, sulla carta abbiamo avuto un aiuto dal calendario in queste due ultime partite. Abbiamo fatto due prestazioni da piangere. Adesso torniamo ad essere il Pomigliano se vogliamo fare qualcosa, se no torniamo a casa tutti quanti. Domenica e sabato prossimo c'è il derby col Pianura e poi la Nocerina in casa. Quindi due impegni che, come dici tu, se la squadra affronta questo spirito... No, noi vogliamo vincere, ma vogliamo vincere convincendo, non vogliamo vincere così. Perché così alla fine il Venafro non so quanti punti ci sono, 25-30 punti da noi loro. Oggi non li ho visti, non esiste proprio. Siamo con Marzullo, il fantasista del Pomigliano. Loro anche oggi sono il migliore in campo. Vi ringrazio, ma non è sicuramente questa la cosa principale. A me interessa fare bene per la squadra, per il Pomigliano e vincere. Cerco sempre di dare il massimo per portare a casa un risultato positivo. Poi che sia il migliore in campo è una cosa in più. Ecco, hai dimostrato anche quando avevi l'influenza di giocare, di impegnarti, molto attaccamento a questa piazza. Sì, è una cosa che sento dentro per l'affetto che mi dà questa società, che mi dà il presidente, il direttore, tutti, vicepresidente. Quindi cerco di ricambiare sempre in modo positivo. Quella domenica mi chiamò la mattina il direttore Agostino e mi chiese di fare uno sforzo per scendere in campo. Io non me lo so fatto dire due volte perché questa società meritano il massimo impegno da parte di tutti.